Nella puntata precedente Siamo andando a Mantova a provare Siamo arrivati Che sto in pussa Grazie Guarda quanto è bello però il battente C'è noi abbiamo proprio la fortuna di avere un battente di strabello Ho scoperto che il nonno della Nicole Da giovane ha ballato Con Gloria Ghello Bene raga siamo arrivati qui a Mantova Ciao belli Eccoci Stiamo andando da Areffo Ci vediamo là Se non mi fanno fare il pochè come dico io Stavolta mi arrabbio Buongiorno E siamo a buongiorno a tutti Buongiorno a tutti In realtà ci siamo sempre stati qua in orario Perché è appunto la realtà è importante Ieri ho detto infatti Guardate calcoliamo 10 e mezza Visto che il turbo 10 e mezza Sono del turbo Ma poi ho detto Tutti i coglioni L'attraversano tutti Infatti io vorrei andarmene da fuori Quante camera abbiamo? Una Una Due Per te Io ho anche una gopò se volete Una gopò Bene raga Ora stiamo andando a mangiare il pochè Abbiamo fatto una piccola pausina Ma se Andrea è reso E quindi ora stiamo andando l'acqua Con tutto questo Noi non ci stiamo capendo Cazzo Ci abbiamo Già più Ricostanti Abbiamo mangiato Il pochè Il pochè Il gelato Che non è stato fatto il video Ma abbiamo mangiato un gelato Ve lo assicuro Adesso posso entrare in una discussione Ma raga ma ce la facciamo Adesso non sai niente Va bene L'unico che sa Ma se scusami Tanto è il clic Ma questo Ma ho capito Ma come Io dico Come fa a sentirlo D'anzi io Tu lo senti il clic Qua che è dentro? Credo di sì Cazzo non ci arrivo Ma dai ma basta Sfilmare Sfilmare E adesso sì Porca Adesso non dimentichiamoci dell'audio Ma il resto sai partire? No la telecamera Lascia i voi La registrazione Eh ma devo far partire anche la telecamera Vado Silenzio No le facciate Che cazzo mette Perché mi guardi così? Un cervo in autostrada Ma siete pronti tutti raga? Ma tutti No scusami Ho fatto una cagazza Ho fatto una cagazza Ho fatto una cagazza Io con il carico Vai Aspetta No no Viga raga No ragazzo Ma che cazzo Ma che cazzo Grazie No ragazzi Non è possibile No ragazzi Contenuti su youtube Ne abbiamo Basta Adesso ne abbiamo Take Decisiva Abbiamo finito le prove Ciao Questi due giorni In Ferragno Non li voglio più vedere Mai più fare Adesso andiamo a casa Stiamo affaticati Andiamo a casa Riusciamo dal gruppo E basta E basta E starete proprio Finiti lì Ciao Ciao Ciao